Questa famosa parola integrazione, integrazione, io poi devo disintegrare? Qual è la formula? Com'è possibile che dopo sette anni della mia vita io mi divento clandestino? A lanciare il grido d'allarme è l'associazione ACB Social Inclusion, che da anni presta assistenza ed ascolto ai cittadini stranieri che vivono in provincia di Arezzo. A causa del decreto Cutro che modifica il testo unico sull'immigrazione, tantissimi stranieri che lavorano regolarmente anche sul territorio aretino potrebbero infatti diventare irregolari. Per quanto riguarda l'Istituto della protezione speciale c'è stata un'abolizione di quello che è il collegamento tra questo permesso di soggiorno e il percorso di integrazione territoriale. Quindi sostanzialmente adesso la protezione speciale è soltanto collegata a quello che è un rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti nel paese origine. Quindi si perde quella che è la tutela della vita privata e familiare e quindi del progetto di integrazione. I permessi di soggiorno poi sulla base della riforma per protezione speciale non sono più convertibili in lavoro e quello poi è anche il nodo principale perché una persona che si trova ad oggi con un permesso per protezione speciale lo potrà rinnovare soltanto se c'è un rischio di persecuzione di trattamenti inumani o degradanti e non lo potrà più convertire in lavoro. In teoria sono con il rigetto di quella che è la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno sono immediatamente espellibili, quindi allontanabili dal territorio nazionale. Evidentemente questo comunque creerà clandestinità. Molto preoccupati della gente che vengono, dice come è possibile che io ho aspettato per questo permesso di soggiorno tre anni, quattro anni e ora questo non posso più rinnovare. Io ho un lavoro, contratto indeterminato. Nella retina il rischio secondo l'associazione è quello di perdere nel giro di un anno quasi 3.000 lavoratori. Perché sono aziende grossi che ci lavorano tanti operai, sono imprenditori stranieri che fanno lavorare loro operai e ci sono aziende dove lavorano 50-60 operai che lavorano. Sono persone che tutti sono qualche modo con questo permesso di soggiorno. La norma è entrata in vigore l'anno scorso, ancora praticamente per le richieste formalizzate prima di quelle entrate in vigore, ancora si applica la normativa precedente, però già adesso comunque le questure non consentono più la conversione dei permessi di soggiorno. Quindi gli effetti si iniziano già a vedere ad oggi.